La partita è in mano per più di metà del secondo set e poi improvvisamente siamo spariti, siamo scalati, siamo persi con sicurezza e questo ci ha fatto rischiare di perdere la partita. Poi siamo stati comunque bravi a riprenderla, avere la forza di metterci sotto e lavorare lo stesso, quindi alla fine l'abbiamo ribaltata e credo che sia giusto, anzi, abbiamo sicuramente il rammarico di aver perso un punto in campo. Allora è stata una bella partita, abbiamo avuto dei momenti un po' di scomporto di Samawalt, vediamo il secondo set, però sono state brave perché abbiamo ripreso il via, abbiamo messo la grinta giusta, abbiamo dimostrato che possiamo farcela anche in situazioni difficili e questo per me è stato un grande punto di svolta e di crescita della scuola, speriamo di continuare così in futuro.